E lì c'è la volpe. Abbiamo la foresta. Si è girata di qua? Si. Stai a fare di spalle. No, la testa, gira la testa. Stai a fare di spalle. Ma è vero, stai a fare di spalle, c'è ragione. Si gratta pure lui il muso. Si. Che è questo? Si fa cosa mangiare? E' bello. Si? Si è grattato. Un po' ruffato. Si. 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 Grazie a tutti